Il decreto del commissario ad acta determina che molti servizi e prestazioni specialistiche vengono pagate dai cittadini, una situazione sempre più grave in un settore nell'occhio del ciclone. Funerali Casamonica, quei legami col Molise, l'argomento è diventato un caso nazionale, le celebrazioni nella parrocchia romana indignano anche parte della chiesa, è intervenuto pure Bregantini, intanto spuntano i legami del boss con il Molise. Zuccherificio, Pasini si fa di nuovo avanti, non chiedo nulla, sono a disposizione pronto a fare la campagna abieticola con tutti i dipendenti, ha detto l'imprenditore, intanto sono giorni di incertezze per lo stabilimento. I sapori di una volta con la Coppa Civitanova, ieri e oggi uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate molisana, carne e patate cotte in un recipiente, sotto la brace, in tanti hanno sfidato anche la pioggia per assaggiare la pietanza. Nel fine settimana al via la Coppa Italia, sedicesimi di andata, con tutte le squadre di promozione impegnate hanno il favore del campo, intanto prosegue la preparazione in vista dei campionati. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale C'è la Sanità in apertura perché il commissario d'acta Paolo Frattura ha firmato il decreto con il quale taglia una lunga serie di prestazioni specialistiche e di servizi che saranno a totale carico dei pazienti, un provvedimento che va ad aggravare una situazione già estremamente critica dell'assistenza sanitaria molisana. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il diritto alla salute e alla cura è uno dei principi cardine riconosciuti dalla Costituzione italiana eppure in Molise anche questo diritto è stato cancellato dall'azione scellerata del commissario d'acta Paolo Frattura che pur di far quadrare i conti della sanità sta tagliando servizi e prestazioni. E così con una precisione raggeneristica con decreto numero 43 dello scorso 8 luglio il commissario d'acta ha stilato un lungo elenco delle prestazioni specialistiche che ora sono a totale carico dei pazienti. Si va dagli interventi di chirurgia generale con l'utilizzo di azoto liquido del costo di 15 euro alla risonanza magnetica nucleare da 0 a 10 anni, costo 344 euro, ad altre attività diagnostiche per immagini come la spettroscopia in età evolutiva la cui spese si aggira sui 580 euro. Sempre a carico degli assistiti, interventi di oculistica e tutta una serie di analisi di laboratorio e, cosa gravissima, la cancellazione di molte terapie riabilitative post-operatorie. A tutto questo va ad aggiungersi il taglio dei lettini da decupito utilizzati negli ospedali perché considerati troppo costosi. Dunque un taglio generalizzato che non tiene conto in nessun modo di quella che è la realtà molisana, una regione tra le più anziane d'Italia ma anche una regione alle prese con livelli di disoccupazioni altissimi. E quindi viene facile immaginare come molti malati rinunceranno a curarsi, a sottoporsi a interventi o analisi di laboratorio perché non potranno pagarli. Tutto questo è il frutto dell'attuazione da parte del commissario governatore Frattura del piano di rientro, mentre nulla si sa, dei piani operativi presentati a Roma e sui quali sembra essere sceso un inquietante silenzio. Questo è solo l'ultimo esempio di macelleria sociale a cui ci hanno abituato ormai da due anni e mezzo Paolo Frattura e la sua giunta. È il momento di dire basta e di tornare al più presto alle urne, ha commentato indignato Italo Francesco Di Iorio, responsabile del Dipartimento Politiche Sanitarie di Fratelli d'Italia a Enne. In attesa del servizio su Casa Monica, sui federali di Casa Monica e quei legami con il Molise dopo le dichiarazioni del parroco che ha celebrato la messa dicendo che tutto quell'ambaradan era dovuto al fatto che erano arrivati da Venafro. In attesa del servizio di Enzo Di Gaetano intanto andiamo avanti e parliamo di zuccherificio. In questi giorni di incertezze si fa di nuovo. Avanti Diego Volpe Pasini, non chiedo nulla, detto mi metto a disposizione dei curatori fallimentari e sono pronto a fare la campagna bieticola facendo lavorare tutti i dipendenti. Sentiamo Manuela Iorio. Con la nomina da parte dei curatori fallimentari del nuovo amministratore unico dello zuccherificio del Molise, la politica è rimasta di fatto fuori dalla gestione aziendale. Non poteva essere diversamente dal momento che il fallimento della SPA, dove la regione era socia al 100%, ha lasciato la politica stessa senza alcun potere. Il nuovo amministratore Fabio Marone ora deve decidere insieme alla curatela se seguire la strada intrapresa dal suo predecessore Cianciosi e dunque tenere spenti i macchinari e mettere la campagna nelle mani dei mini impianti per il quale affitto, stando alle voci, è stato già dato un cospico anticipo. Oppure se decidere invece di riaccendere i macchinari, offrire lavoro a tutti i dipendenti e di dare ancora la possibilità allo zuccherificio di restare un'azienda agroalimentare. E sì, perché negli ultimi giorni si è rifatto avanti Diego Volpe Pasini con la sua Area Food che nel frattempo in questi mesi ha raffinato e rinforzato il piano industriale e coltivato barba e bietole che ora sono pronte da lavorare. L'imprenditore si è infatti messo a disposizione dei curatori fallimentari facendo sapere di essere pronto a riaccendere l'azienda a costi minimi e a fare una campagna di un mese dando lavoro a tutti i dipendenti. Si salverebbero le quote e la stessa fabbrica verrebbe vista con occhi diversi da chi potrebbe essere interessato all'acquisto, darebbe insomma segnali che è ancora viva e non più solo l'idea di essere un carrozzone vecchio e arrugginito. Insomma c'è anche un piano B ora sul tavolo rispetto a quella che sembrava l'unica alternativa, cioè quella dell'affitto di un mini impianto che comunque rappresenta pur sempre un salto nel buio con rischi molto elevati. Sul fronte sindacale intanto le associazioni di categoria hanno chiesto un incontro con il nuovo amministratore unico per capire a che punto sia la documentazione per accedere alla Cassa Integrazione e per avere notizie sulla campagna e sulla manutenzione della fabbrica. In Molise ci sono 56 posti liberi per il personale ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ma ancora una volta i precari restano al palo, lo sostiene la Federazione ai lavoratori della conoscenza della CGL, spiegando che per i veti del Dipartimento della Funzione Pubblica non si procederà alle assunzioni in ruolo e nomini annuali, conferite fino all'avente diritto in attesa dell'eventuale transito del personale delle province al ruolo ATA. Il sindacato ricorda che in Molise dal 2008 si sono persi 439 posti tra assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Trasporto ferroviario sempre al centro delle polemiche con pesanti disservizi che sono all'ordine del giorno, come testimoniato dalla cronaca anche degli scorsi anni fino ad oggi. Il Forum per il Trasporto Pubblico Locale torna ad attaccare tra in Italia e la Regione. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. I disservizi e problemi sul trasporto ferroviario locale sono ormai all'ordine del giorno e nonostante gli annunci dell'assessore Nagni, la situazione resta grave come sempre e a totale carico degli utenti che, vale la pena ricordarlo, continuano a pagare non poco e per un servizio a dir poco scadente. Una situazione sulla quale è intervenuto il Forum per il Trasporto Pubblico Locale che questa volta vuole fare i conti in tasca a Trenitalia e parte dalle recenti dichiarazioni proprio di Nagni che ha annunciato l'impossibilità per il Molise di avere nuovi treni acquistati a livello nazionale con il contributo statale perché la Regione non ha ancora saldato il depito contratto delle amministrazioni precedenti. L'assessore dichiara che la Regione sta pagando in rate convenute, qualche volta in ritardo, ha sottolineato il Presidente del Forum, Filippo Poleggi. Ci permettiamo di ricordare a Nagni un consiglio già dato in precedenza, le biglietterie non funzionano, ma il servizio viene pagato come da contratto. Trenitalia, aggiunto, esercita da molti anni utilizzando largamente il servizio sostitutivo su gomma, il cui costo è un decimo di quello del treno. Vogliamo provare allora documenti alla mano a fare un poco di conti? Se gli accordi in cooperazione zoppicano, ha precisato Poleggi, e il rapporto è semplicemente mercantile, si risponda con lo stesso criterio. Infine l'appello che sarà rivolto anche ai parlamentari molisani. La riforma delle ferrovie non funziona, ha detto il Forum. Si era privatizzato per snellire, ma abbiamo creato solo due pesanti burocrati che non dialogano tra loro. L'Italia è lunga e freccia rossa non basta. Quando si vorrà superare questo arrogante monopolio mascherato e liberalizzare seriamente il servizio, è l'interrogativo posto da Poleggi, che attende ancora una volta una risposta. Il Comune di Termoli non può acquistare, almeno per il momento, l'ex cinema Adriatico. Lo ha dichiarato l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Gallo, al Comitato Termoli partecipa, che è incontrato in municipio, per una riunione a seguito della richiesta dell'Associazione di indire un referendum consultivo sul destino dello stabile che si trova alla fine di corso nazionale. Il rischio desertificazione in Italia è molto alto, specie nel sud, lo rivela il molisano Mauro Centritto, direttore dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie Arbore, anticipando a Lanza alcuni dei dati che saranno presentati mercoledì prossimo 26 agosto ad Expo, dove in programma un convegno scientifico sulla desertificazione organizzato dal CNR. A causa del degrado del suolo per l'eccessivo sfruttamento, il 21% del territorio nazionale è in pericolo. Dice la ricerca, i numeri salgono a una media del 41% al sud, nel Molise il 58%, una delle percentuali più alte, con la Sicilia al 70%. A fine settembre le indocce di Agnone, protagoniste sui navigli a Milano, intanto lunedì, sempre per Expo. In una iniziativa del Lanci si parlerà di Alto Molise e comuni intorno alle Mainarde. Sentiamo. Il legame tra territorio e cultura, un racconto che parla della terra, di come viene vissuta, respirata, amata da quei comuni dell'Alto Molise e quei borghi attorno alle Mainarde. Lunedì sarà questo il tema della quarta giornata promossa dal Lanci. l'Associazione dei Comuni Italiani per Expo a Cascina Triulza. L'artigianato frutto di quell'incontro unico fra tradizioni, elementi culturali e ambiente, l'artigianato di cui si caratterizza il Molise con produzioni di alto livello, come ad esempio le zampogne di scapoli. Protagonista della giornata d'Expo, l'associazione, sistema turistico locale Alto Molise, che si impegna nella tutela del territorio. Quel territorio in cui spiccano, tra le tante cose, l'arte degli scalpellini di Pesco Pennataro, dei produttori di coperte di lana di Capracotta e San Pietro Avellana, in cui sgorgano le acque di Rocchetta al Volturno e Pizzone. L'appuntamento alle 19, dunque, è lungo il Decumano con la parata del gruppo Folk La Pecce Nera, seguito dalle comparse che accompagnano la maschera antropomorfa del Cervo di Castelnuovo, dagli zampognari di Scapoli, dunque, e dagli indocciatori di Civitanova del Sannio. Si chiuderà con il concerto del gruppo Patrios. Fino al 31 agosto, nel mercato di Cascina Triuls, si potranno degustare prodotti enogastronomici. Domani alle 10 in piazza Giovanni Paolo II ad Agnone, dove attualmente è esposta pubblicamente la campana di Expo del Molise, ben 850 kg di bronzo purissimo, opera della Pontificia Fonderia Marinelli. Il giornalista e campanologo torinese Maurizio Loris Scandurra, insieme a Gerardo Colombo, artista torinese di fama internazionale nel campo della nuova pop art, faranno dono ai fratelli Pasquale e Armando Marinelli di un'opera d'arte per il Museo Internazionale della Campana, intitolato a San Giovanni Paolo II, a simboleggiare nell'anno dell'Expo il forte legame che esiste tra il Piemonte, terra anch'essa di storiche campane e fonderie ormai estinte, e il Molise. Andiamo adesso a Civitanova del Sagno, dove si è ripetuta la manifestazione tradizionale ormai della Coppa, la carne con le patate cotta sotto la brace in un recipiente, una delle manifestazioni gastronomiche più attese dell'estate molisana, l'ha seguita per noi Giuseppe Carriera. È cotta! È cotta, con questo grido liberatorio dopo tanta fatica per prepararla, è attesissimo dalle persone che hanno atteso con trepidazione la sua cottura, anche per la prima serata dell'edizione 2015, la Coppa, caratteristico piatto di Civitanova del Sagno, è tornata a soddisfare le attese di tanti buongustai. Nonostante la pioggia intermittente nella prima parte del pomeriggio, gli esperti volontari dell'associazione Civitanovesi nel mondo hanno preparato carne e patate, semplice ma gustosissima grazie al metodo di cottura tradizionale, in uno scrigno d'acciaio di dimensioni giganti, posto su una base refrattaria e coperto di brace. In oltre tre ore di lenta cottura, i sapori si esaltano senza ricorrere a particolari ricette. La semplicità, unita alla qualità delle carni di maiale e degli ortaggi scelti, rende speciale questo piatto. È stato un lungo parto quest'anno, è stata veramente sofferta, il tempo non è stato clemento per niente, però questo gruppo di amici ci ha stupito anche questa volta, abbiamo tenuto duro e alla fine il tempo è uscito alle nove e la gente, devo ringraziarla tantissimi perché ci hanno aspettato con pazienza sotto la pioggia fino all'ultimo istante e poi alla fine sono stati premiati loro e siamo stati premiati noi. Accanto alla coppa il classico pomodoro civitanovese costoluto di dimensioni importanti dal colore rosso acceso e dalla forma a cuore dolcissimo. Dolci tipici, pane locale e vino rosso fresco completano il pasto. In centinaia sono arrivati da ogni dove moltissimi, ovviamente i turisti e gli emigrati di ritorno. Buonissima! Valeva la pena aspettare un pochino? Certamente, anche con questo tempo però... Buon appetito! Siamo stati premiati poi alla fine. Qual è il tuo nome? Rose. Where are you from? We're from Toronto! E come mai sei qui? Ah, è il compleanno della nonna del mio marito. Fa cent'anni quest'anno. Hai assaggiato la pietanza? Buonissimo, grazie! Lei dove vive? A Toronto, Ontario, Canada. Senta, ma lei a Toronto lo vede, Telemolise? Sì, sempre. Lo guardo sempre. Dove lo vede? Delle volte su internet, delle volte su Facebook, poi me lo mandano, queste di Civitano. Quindi vede che cosa? Vede quello che fanno qui, no? E va buonissimo, è proprio buono. Tu di dove sei? Where are you from? Vancouver, Canada. E stasera si replica. Le previsioni meteo annunciano una serata all'insegna del bel tempo. A Civitanova, la braccia è già pronta per una nuova coppa all'insegna dell'accoglienza e della simpatia. Le radio libere in Italia, in particolare in Molise, è il tema affrontato in un convegno a Riccia, il villaggio Ciocca, nell'ambito di una iniziativa proprio sull'argomento delle radio libere. Sentiamo. Così cantava Eugenio Finardi, amo la radio perché libera la mente, il titolo dell'iniziativa Riccia. Modulazioni di frequenza, le radio libere in Molise, l'interessante convegno al villaggio Ciocca, in cui è stato affrontato non solo a livello locale, uno dei fenomeni più interessanti, esploso alla metà degli anni 70, espressione di pensiero libero, musica libera in un periodo di fermento sociale e politico. Le origini con Radio Caroline, che trasmetteva su un mercantile dallo stretto di Gibilterra fino agli anni 90, con il riconoscimento di ciò che fino ad allora era clandestino, ma forse anche per questo, visto come è libero dalle gacce e costrizioni. In Molise oltre 50 le radio libere nel decennio d'oro. Al convegno presenti molti esponenti di emittenti radiofoniche, tante le testimonianze con l'intervento anche di Mena d'Ancona di Radio Luna Network. L'idea dell'iniziativa così spiegata dall'assessore comunale alla cultura del comune di Riccia, Antonio Santoriello. L'idea è venuta un po' di tempo fa, poi si è affinata nel tempo, parlando con le persone che a Riccia avevano fondato delle radio libere. È stato un modo per rievocare sia l'aspetto nostalgico, sia l'aspetto della conoscenza di quel periodo storico in cui furono fondate le radio libere, la metà degli anni 70. A Riccia c'è sempre stata una grande tradizione di radio libere, la CBR Radio, Radio Venere, Radio Incontro, Radio Riccia. Ecco, in queste radio si sono alternati giovani e meno giovani, hanno fatto gruppo, hanno fatto socialità e hanno sperimentato anche loro nuovi linguaggi, nuovi comportamenti che si sperimentavano in tutta Italia. Interessante poi l'intervento del professor Ivo Germano, docente di Teorie e Tecnica dei Nuovi Media all'Università del Molise, con un excursus storico sulle radio libere in rapporto con l'attualità. Si tratta di un'esperienza per certi versi ripetibile, che però ha lasciato delle tracce, delle orme, dei calchi, delle suggestioni che singolarmente potrebbero essere riprese per potenziare soprattutto l'aspetto dal basso dell'accesso, della direzionalità, della reciprocità, della complicità fra emittente e ricevente. L'iniziativa prosegue a Riccia anche domani sera in piazza Umberto con Three Band Cover che interpreterà canzoni degli anni 70. Domani a Boiano tutto pronto per il ventesimo Memorial Nino Priolo organizzato in occasione della gara ciclistica interregionale per ricordare appunto Nino Priolo, già presidente della società organizzatrice. La gara valida come seconda prova del settimo trittico del Molise è organizzata da GS Molise Ricambia SD con il patrocinio dell'assessorato allo sport della regione Molise. Alla gara partecipano atleti del ciclismo professionistico e dilettantistico a livello nazionale e internazionale. Prossimo appuntamento con la terza e ultima prova il 30 agosto a Castelpetroso. Da segnalare poi tra le manifestazioni organizzate nel cartellone dell'estate alto molisana la mostra fotografica Agnone Villa Canale Ieri e Oggi che mette in evidenza facce, situazioni e scorci del passato e del presente. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Scorci del passato, volti giovani che ricordano momenti di vita di tanti anni fa, tradizioni e costumi che superano la prova del tempo. Questo e tant'altro nella mostra fotografica Agnone Villa Canale Ieri e Oggi. Le foto sono tutte di Gelsomino Iannicelli, un foto amatore che racconta la vita dell'alto molise e degli alto molisani attraverso i suoi scatti. Questa è la sesta edizione che espongo qui a Villa Canale. Io sono un appassionato a fotografia da bambino, diciamo, e ho lasciato anche l'eredità a mio figlio, il più grande, che è molto più bravo da me, diciamo, e ha l'attrezzatura più idonea per questi servizi. Questa mostra fotografica è la sesta edizione fatta a cura dell'Associazione Culturale Nuova Villa Canale. In particolar modo mi riferisco ai sposi. L'anno scorso ho presentato dei singoli sposi, che saranno circa 200 foto. Quest'anno ho optato per i gruppi dei sposi, così possiamo vedere dei personaggi degli anni 40 a oggi, magari che sono scomparsi qualcuno da tanti anni fa, e la gente commenta e guarda e magari si rivede su queste foto. Poi sui bambini, tengo molto a dire, sui bambini perché ho cinque nipotini e mi piacciono tanto i bambini. Poi ho fatto le cose antiche, quelli sono dei paesaggi di Villa Canale dagli anni 40 ad Anzi, dagli anni 30 ad oggi. Poi ho fatto le attualità, ho riprese. L'Associazione Culturale quest'anno ha compito 23 anni. Io ho fatto delle foto, ho fatto delle foto dall'inaugurazione dell'Associazione a oggi. e ho scelto le migliori fotografie, le ho ringrandite, come si può vedere, e ci sono questi fascicoli che ci sono oltre 10.000 foto con questa mostra fotografica. Ci sono stati dei problemi tecnici per quanto riguarda il servizio di Casa Monica, dei funerali di Casa Monica, adesso siamo in grado di mandarlo in onda. Anche la Chiesa si spacca sull'argomento che in qualche modo coinvolge anche il Molise. Da una parte l'arcivescovo Bregantini, esponente della CEI che parla di un fatto gravissimo, dall'altro il cardinale Ruini, per il quale Casa Monica era un cristiano ormai redento. Si tratta dell'ecomediatica intorno ai funerali, appunto di colui che il suo clan definiva il re di Roma, esponente di spicco della comunità Rom della capitale. Alle sequie funebri era presente anche una vasta delegazione di suoi parenti provenienti da Agnone, Isernia e Venafro, dove da giovane lui Vittorio Casa Monica aveva soggiornato. Sentiamo Enzo Di Gaetano. È evidente che ci sono dei problemi su questo servizio che vi proporremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, intanto sui funerali di Casa Monica. In una nota, il consigliere comunale di Campobasso dell'Udc, Pietro Montanaro, ha espresso indignazione per i funerali celebrati a Roma. Un atto che offende tutti gli italiani. Ha commentato chi ha autorizzato lo svolgimento delle sequie e dovrà risponderne, ha concluso il consigliere comunale. Prima di salutarci, e cambiamo decisamente argomento, diamo uno sguardo agli appuntamenti estivi in programma. Oggi in Molise, a Monteverde di Boiano, l'atteso concerto dei Tiro Mancino, in una delle date del nuovo tour della band di Federico e Francesco Zampaglione. Il concerto è con ingresso libero alle 21.30, l'organizzazione dell'Associazione Culturale Don Albino Jovic. A Civitanova del Sannio, come avete sentito, prosegue la Coppa, l'evento gastronomico dedicato al piatto tipico a base di carne e patate cotte sotto la brace e si terrà invece sempre stasera per le vie del centro storico di Trivento il percorso enogastronomico organizzato dall'Avis. L'iniziativa era in programma ieri, ma a causa del maltempo è stata spostata ad oggi. E tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Dopo la sigla ci sono le previsioni meteo, poi la linea passa ai colleghi dello sport, noi ci vediamo intorno alle 15 per il TG Flash. Buon pomeriggio.